Ok, allora, prima di tornare nel nostro Unity, che abbiamo già aperto qua sotto, volevo fare solo una piccola panoramica del glossario di alcune parole che sono interessanti, sono importanti e che hanno un significato speciale in spatial. In particolare il concetto di world, di spazio, e poi altre entità prefab abbiamo, ma adesso le vediamo man mano, ci sono gli items, il package, l'economia. Allora, world, in pratica, è un... vediamo cosa intende. Allora, quello che voi create quando entrate, create un mondo normalmente, si chiama spazi, in realtà in spatial. Questo perché quello che volete probabilmente fare non è tanto di fare uno spazio e finisce lì, ma volete fare un insieme di spazi collegati fra di loro. Spazi sono dei posti dove fate delle cose, collegate questi spazi l'uno all'altro e li mettete all'interno di un mondo. Ecco, quel mondo, questi mondi sono dei mondi che possono essere costituiti da tanti spazi. Nella cezione Second Life OpenSim, quindi ogni mondo, è un insieme di sim, se volete, o di esperienze, che nell'insieme descrivono una certa esperienza. Può essere un'esperienza di gioco, quindi per esempio un gioco abbastanza complesso, si snoda, c'è un mondo dove ci sono varie queste, ad esempio, e che devono essere completate secondo un certo ordine. e si può costruire un mondo, per esempio, di Advanced Dungeons & Dragons, per esempio, se uno volesse fare quel mestiere, oppure un mondo legato alle esperienze, per esempio, di Escape Room, oppure di un Escape Room complesso, che è costituito da parecchi spazi, proprio perché, come avete già capito, Spatial lavora con i visori e quindi con i cellulari, quindi è utile che ogni singolo spazio sia il più piccolo possibile, in modo tale che sia l'esperienza di uso degli spazi, quindi di Spatial sia non frustrante e quindi privo di lag. Ok, quindi in questo esempio io ho creato due mondi, quindi un mondo senza titolo e un mondo che ha collegato un nome, in questo caso siamo con gli inizi, poi vediamo se va bene, comunque Edu3D World potrebbe essere anche interessante, e dentro questo mondo ci sono vari spazi. Allora, lui, potete mettere un'icona, cioè un'immagine per ogni mondo, e al momento quello che lui mette qua, questa immagine qua, è un'immagine presa dal primo mondo, dal primo spazio del mondo. Quindi se noi entriamo dentro questo Edu3D World, vedete che ci sono diversi spazi, in questo caso ci sono solo uno, c'è la possibilità dello spazio di essere, di avere un nome e di essere listato, non listato, quindi potete effettivamente assegnare, quindi avere questo spazio dentro questo mondo, potete impostare le impostazioni del mondo, quindi prendere tutte queste cose, ecco attenzione, la cosa interessante di tutto ciò è che ogni mondo, o c'è il mondo, c'è un'idea associata a questa cosa qua, che è interessante perché permette poi di lavorare col mondo. Adesso siamo ancora ai primordi, quindi vediamo poi dopo come funziona, qui ci sono i vari spazi, possiamo visitare gli spazi, gli spazi hanno poi i loro settings speciali, ecco una cosa interessante, che si può avere una currency, cioè una moneta, una valuta, e si possono avere dei budget, questo è molto interessante perché si può costruire un budget, e poi da scripting si può assegnare un budget, oppure una cosa interessante, si può costruire, ecco questo è un oggetto che interessa molto, perché diversamente da VRChat, dove avere degli oggetti di questo tipo, che prendono il nome a volte di props, quindi sono degli oggetti che potete, è una specie di inventory in pratica, detto in parole povere, quindi potete avere un inventory di oggetti che si possono usare soltanto in questo mondo. Ok, allora, una volta vista questa piccola premessa quindi di questi signori, ah, e poi tra l'altro ricordate che noi abbiamo, quindi se tornate nella vostra icona, quindi praticamente tornate nel menu principale, e poi cliccate sulla vostra icona, potete vedere praticamente tante cose, ma fra le varie cose vedrete che c'è anche uno studio. Allora lo studio permette praticamente di rivedere, di entrare praticamente nel menu che abbiamo appena visto, e un'altra cosa che effettivamente si dovrebbe poter vedere sono altre cose, quindi ecco la distinzione forse che non abbiamo ancora detto fra spazi e template, no? Perché vedete che fondamentalmente si possono vedere gli spazi, ma gli spazi sono, adesso qui non si vede chiaramente, ma sono divisi in realtà in due parti, quelli che sono spazi veri e propri, quindi sono spazi dove si può entrare, e poi quelli che sono i template. I template sono degli spazi che sono duplicabili, sono colonabili, e quindi si può effettivamente lavorarci sopra. Ora però torniamo, avendo avuto questa infarinatura molto veloce, torniamo da noi, e vediamo, entriamo praticamente in una scena, allora in questa scena io ho messo semplicemente un piano, quindi tra parentesi, per chi non lo sapesse, ho fatto anche il video negli anni scorsi, per raggiungere un piano basta fare, aprire una scena, quindi qui siamo su una scena del nostro modello Unity, quindi abbiamo un progetto, e nel progetto praticamente possiamo scegliere di vedere tutte le scene presenti, e quindi per esempio in questo modo, vedete qui ci sono tutte le scene, qui c'è la scena pacchio, che state vedendo, ma c'è anche una scena che loro presentano di default, che è l'environment, quindi se voi cliccate su environment, compare praticamente la famosa isola, questa isola è gestibile, si può lavorarci sopra, è quella che lo raccomandano, ma noi partiamo, nel caso di questo video, in realtà prendiamo un pacchio, semplicemente perché ho fatto un elemento, un prefab, ok, questo prefab, vedete che tra parentesi, questo prefab, ha questo simbolo, che dice che è un oggetto, sincronizzato tra parentesi, ecco, questo l'ho visto per la prima volta anche io adesso, perché è sincronizzato, perché gli ho messo un po' di cose che servono, allora in particolare, torniamo un po' alla scena, cioè praticamente come si fa, a fare un oggetto, no? Perché questa è la cosa interessante, quindi l'oggetto, lo potete creare all'interno di una scena, ah, prima avevo detto come si faceva a creare un piano, scusate, finisco, quindi basta, andate qua sopra, fate creare the object, e create un piano, questo l'ho già fatto, quindi c'è già il piano, che sarebbe questo, una volta creato gli oggetti, veroissimamente c'ha tutte le sue caratteristiche, e la cosa interessante dell'oggetto, una volta creato, controllate che ci sia un mesh collider, se non c'è un mesh collider, presumibilmente poi ci, quando entrate poi in spascia, ci cadrete dentro, se questa è una scena, però noi ci concentriamo in questo caso su questo prefab, allora come si fa a fare un prefab? Il prefab in questo caso era semplicemente un cubo, quindi ho creato un cubo, con il create 3D object cube, e poi gli ho messo un po' di attributi, e poi semplicemente, perché è blu, blu vuol dire che è un prefab sostanzialmente, è un prefab perché io poi l'ho copiato da qui, e l'ho messo praticamente negli asset, quindi torniamo negli asset, e torniamo, togliamo le scelte, e vedete che praticamente trascinando, semplicemente dalla scena qua, verso gli asset qua sotto, e questo è un modo parecchio intuitivo, ma anche un po' confondente, di creare un prefab. Ora, una volta che il prefab è creato, si può lavorare sul prefab, sia andando qui, e andando qui, quindi si vede che si vede solo il prefab, cioè il cubo, oppure praticamente si può cliccare semplicemente sul posto, questo è il navigatore, diciamo, dentro gli asset di Unity, e quindi fra tutte le cose, selezioniamo il prefab, che è questo, e quindi siamo nella stessa situazione. Allora, come vedete, c'è il cubo, ma c'è un po' di altre cose, perché? Perché io al cubo vi ho aggiunto in realtà un po' di cose. Allora, intanto, prima cosa, fate attenzione a quello che vi ha aggiunto, questo l'ha aggiunto automaticamente, Unity, l'ha messo nel layer environment, quindi vuol dire che quel cubo, sostanzialmente, essendo non environment, e se ha una collision collider, che non è detto che ci abbia, quindi quando importate FBX, ad esempio, non hanno mai il box collider, quindi questi, andrebbero poi tutta una serie di tutorialini per aggiungere il box collider giusto alle proprie esigenze, comunque, una volta che questo oggetto ha un box collider, ed è nel layer environment, allora è possibile, cioè inserirlo nella scena, e si comporta come non si aspetta. Allora, io però gli ho aggiunto, e questa è una cosa molto interessante, una serie di proprietà, questo oggetto, in particolare, sono questi, come li chiamano già? Ecco, component, gli ho aggiunto una serie di componenti, no? E questi componenti sono, nel caso specifico, il componente prefab, quindi come ho fatto, sono andato praticamente qui dove dice add component, e gli ho detto, aggiungi il spatial prefab. Allora, perché? Perché volevo farlo diventare un oggetto che poi la gente si trovasse nell'inventario, oppure che potesse essere guadagnato attraverso una quest, o in qualche modo. Ok, quindi, gli ho aggiunto semplicemente un prefab object, e poi ecco, fate attenzione, la cosa che ho fatto, poi è il prefab object, gli ho aggiunto una script machine, Allora, la script machine è il modo che ha Unity di indicare gli script grafici, però per il momento, sospendiamo un secondo, lo vediamo tra un attimo, ok? Ma passiamo alle altri componenti che gli ho aggiunto, gli ho detto che l'oggetto era interactable, interactable vuol dire che sostanzialmente la potete cliccare, o con la F, in spatial, e poi gli ho detto, e poi gli ho aggiunto, ecco questa cosa qua, Syncad, ma la vedremo magari fra un attimo per capire cosa vuol dire, Syncad vuol dire che l'oggetto è sincronizzato in tutti, fra tutti i client, vuol dire che eventuali modifiche di stato, di posizione soprattutto dell'oggetto, cioè se uno muove l'oggetto, l'oggetto risulta mosso anche da tutti gli altri client, questo lo crea un pochino più di lag, quindi è un pochino più lento, ma consente di funzionare nel modo in cui ci si aspetta che funzioni in un mondo virtuale, ok? Quindi torniamo indietro, quindi questo oggetto lo volevo prefab perché lo volevo scambiare negli inventori, un'altra cosa degli oggetti prefab è che si possono poi mettere, inserire in spatial in maniera coordinata, cooperativa, questa è una cosa interessantissima, e poi abbiamo costruito questo, costruiamo lo script machine, ora su script machine vado, cioè in questo video non lo illustro bene, ma vi faccio solo vedere che appunto script machine ha sostanzialmente questo che si chiama edit graph, questo edit graph quando lo clicco compare sostanzialmente, ecco questo script graph che normalmente compare flottante, non così, quindi compare uno script flottante e qui dentro abbiamo praticamente lo script che ci serve per creare, come vedete, questo script, adesso andremo a vedere, sembra complicato, ma in realtà non è molto difficile e ricorda costpaces come costruzione. L'unica cosa che dovete fare attenzione è che quando costruitelo, il graph, se non ce l'avete, lo script machine comparirà qua, la possibilità di costruire, di fare un new script, magari adesso nel prossimo script, nel prossimo video vi farò vedere proprio la costruzione di un prefab object, quindi questo che abbiamo descritto adesso lo faremo esplicitamente, quindi costruiamo da zero un prefab object, ci costruiamo diverso da questo, chiamiamo Pluto quello che è, e poi ci aggiungeremo man mano i pezzi, cercando di renderelo simile a questo, a questo già costruito. E quindi questo è tutto per come secondo video, vediamo nel prossimo.